Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballGersey. Io sono Stefano e oggi vi voglio presentare le differenze nella maglia da trasferta del Manchester City per la stagione 21-22. Quella che vedete è la versione player, quella cioè dedicata ai calciatori, e la versione fan, quella cioè dedicata ai tifosi. Le maglie come vedete sono molto simili, questa è la player e questa è la fan. Non c'è tantissima differenza, però dopo scopriremo insieme i vari particolari. Ora vi lascio alla vista dei dettagli, ci troviamo alla fine, ciao! Come al solito ci tengo a dire che player e fan non contraddistinguono versione originale o meno, ma semplicemente due versioni diverse della stessa maglia. Nella versione player lo stemma e il logo Puma sono termosaldati, mentre nella versione fan sono ricamati. Peraltro nella versione player questi hanno una sfumatura maggiore. Il main sponsor è in entrambi le versioni termosaldato. L'etichetta di autenticità nella versione player è un po' più rigida. La versione player è realizzata con la tecnologia Puma Dry Cell. Il puma sulla spalla della versione player è più sfumato, mentre quello della versione fan è a tinta unita. Il tessuto della versione player è un po' più traspirante per concedere maggiore comfort ai calciatori. Qui potete vedere un particolare del tessuto sul retro della maglia. Siete ancora lì? Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Tra l'altro vi ricordo che sul canale trovate diverse comparazioni tra la versione fan e la versione replica, ad esempio per adidas oppure per Nike e questa finalmente è per la Puma. Io spero che il video vi sia piaciuto e indipendentemente che vi piace di più la versione player o la versione fan spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale per essere aggiornati sui prossimi appuntamenti. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!